se cominciate a vedere dell'acqua che arriva da sotto sapete perché scappiamo allora senti senti Ale io direi di fare subito un po' un bellissimo breakdown perché ci sono state tante osservazioni su queste splendide giocate difensive di Houston tutto in gara 5 tutto in gara 5 no l'ultima era gara 5 sì sì perché poi qui col fuso noi prendiamo poi il fuso orario americano perché vogliamo guardarci le partite live quindi ogni tanto ci confondiamo ma quale giorno era quale quale giorno hanno giocato parliamo di gare esatto quindi loro cosa ha fatto ci sono state queste giocate difensive estremamente belle una in particolare adesso ci racconterai però insomma tanti hanno anche sul nostro canale discord ne abbiamo parlato è stato accennato di questo come bella questa giocata come bella quest'altra giocata ecco ci siamo un po' andati a rivedere queste queste giocate adesso però le vogliamo rivedere con voi e commentarle anche per portare un po' un livello tecnico e aggiungiamo quella di pegna e aggiungiamo quella di pegna che anche quella anche che anche quella vedi se ne è parlato poco però in realtà forse va beh non spoileriamo vai 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 prendi 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 pure in mano la condivisione vai qua su sullo streaming e poi ti vai a prendere il tuo eccolo qua allora mettiamo schermo intero allora guardiamo proprio le le tre giocate difensive più importanti di gara 5 questa qua questa linea bomba mamma mia estensione massima in salto e ferma un potenziale non so se punto comunque uomo in terza sicuro allora facciamo un attimo questo breakdown andiamo partiamo guarda un po' se riesce ad andare indietro a vedere a partire dalla situazione di gioco no ecco qua allora fermiamola qua no qua aveva già giocato bene ah era era al post sì sì che perché l'ha presa al volo ah ok è vero e fa la faccia non fa vedere ecco vai tu proprio mezzo secondo prima ecco qua ferma allora tanto abbiamo castellanos o castellanos non so come chiamarlo in in battuta che batte questa linea qual è la situazione di gioco allora abbiamo un giocatore su un giocatore out quindi un eliminato e un giocatore in prima quindi eh potenzialmente eh è ancora è un bel un bel ancora l'inning pieno se non con il no non diciamo un buon battitore perché castellanos ovviamente forse insieme a darper è uno dei più forti battitori a filadelfia e ecco ehm aggiungiamo una piccola statistica noi parliamo di eh corridori in posizione punto la cui sigla è RISP running in scoring in scoring position ehm con il corridore in seconda o in terza quindi questo non è un corridore in posizione infatti non ho detto eh che è una giocata potenziale da punto eh anche se a volte in giocate del genere si può trasformare in punto dipende chi corre chi ha il corridore in prima e dove viene battuta c'era c'era forse proprio Ar però eh in prima forse ehm cosa succede una palla battuta doppio quindi una palla che va diciamo in mezzo ai due esterni e arriva fino in fondo al campo beh con un corridore un corridore rapido eh può trasformare eh un corridore in prima a in un punto anche se non è in posizione punto quindi perché questa questa difesa è stata fondamentale è stata fondamentale perché eh guardiamo la traiettoria proprio della battuta lui la prende in posizione proprio da interbase tra eh terza e seconda base in massima estensione una linea vuol dire che arrivava diretta all'esterno tra l'esterno destro e l'esterno sinistro e l'esterno centro il corridore a seconda di quanto eh effettivamente può essere veloce dipende tantissime cose magari aveva anche il segnale di un batti e corri di una rubata quindi lui già partiva in che il a lancio è già metà corsia quindi potenzialmente la terza base l'avrebbe presa tutta la vita poteva prenderla poi è un'estensione quindi dipende quanto non abbiamo la prospettiva non abbiamo dove cade però la potenzialità di andare in terza c'era sicuramente e a quel punto comunque è sempre pericolosa cioè qualsiasi giocata valida un out saremo andati a trovare un corridore in prima seconda o in prima e terza e quindi soprattutto come prima e terza un punto sarebbe stato molto probabile e al terzo inning Philadelphia due a uno magari poteva comunque bellissima giocata infatti come ci dice eh come ci dice Meg è vero confermiamo Pena è stato MVP e vorrei dire che la giocata dopo il quarto inning lui è entrato l'ha sparata fuori è vero nuova milestone è vero è vero primo rookies inter base a battere un fuoricampo nelle war series primo rookies perché giocava con noi era tesserato per noi ovviamente e ha fatto quella giocata è piaciuto molto esattamente perché abbiamo una domanda qui ok con le capacità dei battitori perché non si vedono tante battute sull'esterno destro perché anche i lanciatori sono bravi allora cerchiamo di 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 dire questo è vero questo è verissimo dominano i lanciatori dominano nel senso che quando un battitore è forte e batte 300 ovvero il 30 per cento delle volte vuol dire che comunque a dominare sono i lanciatori se tu vai a battere eh 70 eh scusate 100 volte 70 volte sei out capiamo un pochetto se tu sei un battitore destro eh tendenzialmente per come è fatto lo swing la palla va a sinistra quindi è questo il motivo ehm per cui se sempre con una eh dominanza di battitori destri rispetto ai mancini tendenzialmente si vedono più battute all'esterno sinistra che il lanciatore destro con lanciatore destro giusto perché poi bisogna guardare anche le metri eh quando è che si vedono le battute all'esterno destro quando il battitore diciamo è un po' in ritardo quindi quando il battitore è un po' in ritardo diciamo la mazza non ha ancora completato il giro la colpisce sulla punta esatto esatto è giusto noi esageriamo per far capire la palla solo di timing la palla va sulla destra senza mirare cioè senza andarla a cercare solo con il tempo se uno è in ritardo la spara dalla parte opposta al braccio dominante esatto quindi normalmente i destri che battono in ritardo batteranno a destra mentre i mancini tendono a battere a eh a destra perché è il loro lato ci sono più battitori destri che mancini e quindi si vedono un po' più di battute eh a sinistra che a destra eh è interessante andare a vedere gli spray chart quindi andate a vedere i vostri battitori e andare a vedere chi sta battendo tanto contro campo si dice quindi destri che battono all'esterno destro stanno battendo contro campo e allora lì potrebbe potrebbe essere ok sono capaci a battere a tutto tondo e quindi una bella abilità oppure sono in ritardo sempre e quindi occhio sono anche passabili di di multa di k basta che un lanciatore un po' più veloce e poi non accolpiscono ripeto andiamo stiamo esagerando gran finalone invece che parlare generico abbiamo voluto fare questo breakdown sulla difesa molto tecnico andiamo un attimo su su sorera oggi vogliamo presentarvi eh un sito che è eh diciamo satellite di sorer e eh si chiama prendiamo proprio prendiamo ah ah cosa vedo presto presto cambiare baseball ehm prendiamo la squadra di 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 saturno del nostro amico frollo e sarà che siamo degli stalker e beh ehm allora cos'è sorerdata sorerdata è un aggregatore diciamo di informazioni quindi va a prendere sulla blockchain eh le informazioni sul ehm qui ci abbiamo ci abbiamo l'eco ehm va a prendere le informazioni sulla blockchain di tutti eh di tutte le transazioni le eh converte con un frontend grafico e quindi eh eh fondamentalmente eh vi dà la possibilità di osservare sorer in in maniera differente e quindi questo eh questo è quello che si vede allora eh passiamo sulla mia più che altro che sono un attimo più eh più pratico andiamo eh quindi nel eh dentro scusatemi eh purtroppo sorerdata è ancora basato tanto sul sul calcio e quindi vedrete tante tante cose che sono disponibili solo per il calcio ok vedete qua adesso c'è qualcosa anche di basket però tutta la parte scout market a meno che non l'abbiano aggiornato eh la settimana scorsa sono ancora dedicate solo al calcio quindi il mio consiglio è di andare qua sul vostro eh account e poi cliccate su my gallery una volta che siete to my gallery vi fa vedere questo menu dove trovate tutte le varie eh opzioni ovviamente solo dalle limited in poi solo dalle limited perché perché eh ricordiamo chi quali sono i veri NFT sono solo quelli dalle limited in su perché eh tutto ciò che è common non è un NFT di fatto è un è una specie di carta fake dentro il sistema è il eh fantabaseball tradizionale ti viene eh come come se su Yahoo invece che avere la scritta avessi una visualizzata come carta mentre nella limited in su sono proprio dei veri e propri NFT che vengono mintati e tradati sulla blockchain di Ethereum e quindi per questo motivo sorerdata le può andare a leggere eh per cui qui vedete i vostro eh i vostri giocatori li vedete qua che sono divisi per le categorie che conosciamo quindi starting relief eh outfielders corner infielders middle infielders e se volete vi guardate tutta la squadra perché è un punto di partenza fondamentale per giocare a Sorare perché mh vi dà una visione un po' più decente allora Sorare è bellissimo è splendido ma eh se comunque andiamo a vedere statistiche andiamo a vedere esatto eh vediamo qua New Cards qui se volete vedere la vostra squadra eh insomma è molto è molto limitato l'abbiamo l'abbiamo già detto qui invece vi dà qualcosa in più quindi potete andare a filtrarle eh una delle cose più importanti per chi non conosce il baseball è proprio questo status quindi Sorare Ardata va a interpretare eh con i loro uffici eh il lo stato di ciascun giocatore ti dice questo è un partente questo è uno che normalmente entrerebbe durante la partita eh e poi invece è una riserva un panchinaro che non entrerà mai non so quanto l'abbiano mutuate dal calcio questo perché non sono sì perché c'è comunque under 23 quindi sono eh sono ancora a menu sono menu del calcio però eh sono termini che noi non usiamo nel beso però il concetto rimane devo dire che è abbastanza curato è abbastanza curato come mai quelle che invece hai vinto non c'è scritto cioè quella la la cifra al centro è che c'è screen perché c'è screen il prezzo al c'è il valore al centro quello è quanto l'hai pagato quanto l'ho comprato io quindi dove c'è però invece quello è il prezzo più basso il prezzo più alto che puoi trovare sì sì te li spiego bene adesso andiamo a vederlo allora già che mi hai fatto la domanda ovviamente vediamo la 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 caratteristica del del giocatore mh prezzo eh prezzo d'acquisto mio eh io ragiono solo in Ethereum quindi non ho la più palida idea degli acquisti che ho fatto in euro e eh vabbè guarda adesso siamo in un periodo terribile quindi eh non meglio non parlare di cripto questa sera ehm però io mi baso solo sui dati in Ethereum eh per cui questa ti dice la media mensile quindi le tre ehm le trade che vengono fatte mensilmente e invece questo è il floor price cioè cosa no è quello che tu in questo momento trovi sul mercato per cui si fa la prossima stagione si fa veramente 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 interessante se avete qualche domanda torniamo a noi sul sullo scouting sul fatto di dire ok come posso fare la prossima squadra per l'anno prossimo come gestiamo la la hot stove come abbiamo detto no quindi il titolo di oggi è la stufa calda perché ehm in in gergo la parte dell'off season eh si 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 dice si chiama così the hot stove quindi abbiamo fatto la la traduzione letterale così per così per scherzare se nessuno possiamo parlare comunque dei di questi appunto free agent parliamo dei free agent dai eh vedo che ti sei ti sei preso qualche 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 appunto rapido rapido sì allora i free agent più importanti sono judge judge che da new york eh potrebbe rifirmare per new york perché io non credo che gli yankees si lasciano scappare e l'uomo praticamente insieme adesso a nestor cortez sono i due che sono un po' cortezza interessante è carino mi fa simpatico tutto quello fa molto è il primo yankees che non riesco ad odiare mi fa sul cazzo proprio per questo perché non lo riesco ad odiare e lui sembra ovviamente su tutti ci sia san francisco sì san francisco poi il secondo ti dico una cosa scusa se ti interrompo ho visto un gesto di judge secondo me carino che mi ha fatto pensare che rifirmerà per gli yankees perché in una gara di playoff quando forse è uscito un po dallo slump da playoff che la sbattuta fuori è andato ha inquadrato la telecamera era inquadrato la telecamera è uscito e ha fatto il gesto del bacio la maglietta lui penso che sia proprio di new york cioè sia nato a new york credo lui ha genitori adottivi se non mi ricordo male e quindi aveva cioè una bella storia quella quella di judge e come tanti quando uno ha il mito degli yankees che noi ovviamente non condividiamo però poi se hai l'opportunità di stare lì difficilmente difficilmente te ne vai quindi no si trova bene poi ora ma è un lavoro quindi sicuramente non è difficile però comunque ci sono dietro i giants che sono lì io ho già letto di chi lo dà quasi certo lo dà certo ai giants mi sembra un po' Grazie a tutti.